La Zumba è nata tanti anni fa in America, circa vent'anni fa, in Italia c'è solamente da qualche anno. Abbiamo deciso di mettere in campo la nostra esperienza maturata in anni di life. Il nostro repertorio spazia dal latinoamericano all'heat dance del momento. Noi abbiamo pensato di unire la live music alla Zumba Fitness per riuscire a dare tutta l'energia e il trasporto che c'è nella musica dal vivo in una sessione di Zumba. Questa è una formazione atipica studiata apposta per questa situazione, basso, sintetizzatori e DJ. Gli arrangiamenti sono studiati per rendere lo show più dinamico e coinvolgente. Gli arrangiamenti sono studiati per rendere lo show più dinamico e giochi. Tra tutti gli spettacoli che ho fatto, questo è il più divertente. È più convolgente. È tutto ritmo. Mi si suda tantissimo. Mi si suda tantissimo. Grazie per la visione